Sta entrando nel vivo la ventisettesima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. La chermestiatrale, cominciata ufficialmente venerdì 25 agosto, si avvia a Belle Spiegate verso il centro della sua ricca programmazione, che anche quest'anno punta a stupire e a cercare spunti di riflessione per i suoi spettatori. Lo fa attraverso un programma multidisciplinare che viaggia nel mondo delle arti performative. Non solo teatro, ma anche musica, danza, laboratori e installazioni, come quelle che hanno aperto questa edizione e che terranno compagnia al pubblico per gran parte del Festival. Golem dell'artista tranese Dario Agrimi, figura mitica dalle sembianze umane, la cui scultura è posizionata al centro di Piazza Catuma. Un gigante d'argilla che subisce le condizioni atmosferiche, sbriciolandosi o sciogliendosi all'alternarsi del caldo secco e della pioggia. Una metafora sui danni del cambiamento climatico causato dall'azione umana, ma anche sulla precaria condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo. Una critica all'uomo del terzo millennio è quella che arriva, sotto forma di provocazione gonfiabile, con optional di Renato Meneghetti, ospitata nella chiesa di Porta Santa. Un gigantesco encefalo costruito in vinile trasparente che si gonfia e si sgonfia allo scattare di un segnale acustico. Una riflessione artistica sull'uomo moderno, per il quale l'uso del cervello è appunto un optional e così appare quasi sempre sgonfio, perché non utilizzato, per poi gonfiarsi improvvisamente nelle rare occasioni in cui viene usato. Il linguaggio dell'arte è anche quello utilizzato da Andrea Cramarossa in Cosmogonia in Corpo, la mostra presente da ieri negli spazi del Museo di Ocesano. Nasce da uno studio dell'arte performativa attraverso l'opera Edipo Re dell'artista austriaco Herman Nietzsche. Visioni e forme di comunicazioni differenti e innovative in linea con il grande tema di questa edizione, quell'overtime che suona come un invito ad abbandonare certi schemi e modelli tradizionali della società, aprendosi verso mondi nuovi e inesplorati. Stiamo vivendo tempi straordinari, straordinari e inquieti. Un festival come quello di Andrea, multidisciplinare, finanziato esclusivamente con fondi pubblici da parte della regione, del Ministero e del Comune di Andrea, ha il dovere verso il proprio pubblico di trasmettere dei codici di lettura per poter comprendere la complessità della società al mondo d'oggi. Ma questi codici di lettura devono essere un po' fuori dagli schemi classici, diciamo quindi largo spazio a linguaggi nuovi di innovazione, di innesti tra arte, tecnologia, musica, eccetera.